La Fonhoib Fenster AS è un produttore di finestre svizzero, con sede a Rotenturm, nell'area di Zurico. Nello showroom aziendale, dove immostra una selezione significativa della produzione di finestre, si è svolta una breve presentazione dell'azienda e delle tecnologie proposte da Weining. L'imponente centro di lavoro con 6 portali e 16 tavoli, con un centro Powermat 1002 in linea, si compone di un sistema di levigatura, di un alimentatore personalizzato, di una doppia sega nastro, del sistema Conturex di finitura, con sistemi di foratura e fresatura. Il sistema Conturex di finitura e lunghezza, e infine il sistema di scarico, con controllo della qualità. Il centro di lavoro Conturex, completamente automatizzato, ha evidenziato la propria capacità di garantire un livello ottimale di qualità e un'altissima precisione, con foratura e fresatura integrale. Si tratta di un concetto di impianto modulare, che si avvale dei componenti Conturex, ed è caratterizzato da un'estrema flessibilità, unita ad un'alta produttività, che esegue le lavorazioni per famiglie di componenti coerenti senza cambio utensile intermedio.